Via San Marco è la strada principale che attraversa il rione Padovano di Ponte di Brenta, periferia est della città. Il progetto del SIR prevede che il tram passi di qua. Per l'associazione Norotaglia, però, l'opera rischia di causare danni gravi alla viabilità, perché qui il traffico è già sempre intenso e gli spazi ridotti, e al commercio con molti negozianti preoccupati di perdere la clientela durante i lavori e anche dopo. L'impatto economico per tutte le attività che sono lungo questa strada, è un impatto sociale, perché effettivamente quando si crea la socialità in un quartiere di questo genere, viene meno tra i lavori e anche questo mezzo, che comunque toglierà, e c'è l'obiettivo di togliere tutti i mezzi privati che sono in arrivo. Gli autobus elettrici invece, secondo l'associazione, sono il compromesso migliore e fanno risparmiare. Tutta Italia, Europa e anche mondo si sta avvicinando sempre a bus elettrici, che sono in continua evoluzione e in continua concorrenza, che è un bene perché la concorrenza porta anche a prezzi inferiori. La tecnologia può andare avanti benissimo e i costi sono nettamente inferiori, perché qua si parla di almeno cinque volte un costo di un mezzo solamente di un tram. Come detto, i negozianti hanno forti timori di subire un danno difficilmente rimediabile. La loro preoccupazione è quella anche di altri quartieri, perché loro lavorano soprattutto con il cliente di passaggio, quello che poi raggiunge altri paesi, altri comuni, perché col cliente di zona non è che si faccia granché. Prendono ad esempio quello che è già successo, purtroppo, e faccio un esempio eclatante, che è Riviera Ponti Romani, Riviera Tito Livio, dove i negozi hanno chiuso anche grossi negozi e non ci sono più.